In questo numero del Salus Tg. A John O'Keefe e alla coppia May-Brit Moser ed Edward Moser il premio Nobel per la medicina 2014. Il CSS e gli interventi estetici dei dentisti non devono andare oltre le labbra. Eugenio Gaudio è il nuovo rettore dell'Università Sapienza di Roma. Il Nobel per la medicina 2014 è stato assegnato a John O'Keefe e ai coniugi May-Brit ed Edward Moser per la scoperta di una sorta di GPS del cervello che ci permette di orientarci nello spazio dimostrando così una base cellulare per le funzioni cognitive più elevate. L'annuncio è stato dato a Stoccolma dal Karolinska Institute svedese. Gli scienziati si dividono in due parti, una per O'Keefe e l'altra per la coppia norvegese insieme sin dai tempi dell'università, un riconoscimento pari a 8 milioni di corone svedesi, oltre 880 mila euro. I coniugi Moser sono la quinta coppia sposata a vincere un Nobel. Addio alle punturine antirughe dal dentista. Gli interventi estetici dell'odontoiatra sono limitati alla terapia delle malattie, anomalie congenite acquisite di denti, bocca, mascelle e relativi tessuti, quando la cura estetica è correlata all'iter terapeutico proposto al paziente e limitato alla zona delle labbra. E il parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità sulle competenze dell'odontoiatra all'esecuzione di trattamenti di medicina estetica, arrivato all'Ordine dei Medici di Roma. Eugenio Gaudio è il nuovo rettore dell'Università Sapienza di Roma. Ha ottenuto il 59,9% dei voti, pari a 2.547 preferenze, contro le 1.427 dello sfidante Ruocco. Eugenio Gaudio, attuale presidente della Facoltà di Farmacia e Medicina, ha ricevuto la maggioranza assoluta dei voti espressi nel corso della seconda tornata elettorale. L'insediamento avrà il 1 novembre. Il mandato durerà fino al 2020. Gaudio succede al rettore uscente Luigi Frati, alla guida dell'Ateneo Capitolino negli ultimi sei anni.